cagano in bocca pure no ne va paziente emergenza è questione di vita di morte emergenza come stessa madonna che puzza ma che dici non puzzava tanto ma come cosa dico mica mi si sono sciolti i peli del naso il naso ma io vorrei sapere come ci siamo ridotti così noi così come ma come così come con te che ruti che scorreggi che ti lavi quando capita e che ti metti i calzini con l'infradito madre mia ah no prima mi lavo secondo va di moda come i samurai ma moda di chi di cosa cosa non fa ridere non è inutile che ci provi eh non fa ridere non puoi risolvere sempre tutto così ma no no ma fa ridere due risate tra di noi non è che devi sempre far tutto ridere eh qua come 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 ogni volta che mi chiedi mi sono annaffiato la pianta in cucina non fa ridere ti fa ridere perché non ci bisogna che annaffi perché si plastica allora ti chiedo ma annaffiata ho capito può far ridere la prima volta magari ma non è che se me lo chiedi cento volte poi mi sganascio l'annaffiato oggi ma mo guarda riprendi da giocare ma intanto già sto parlando mi stai distraendo dalla lettura sono tre ore che sto sempre sulla stessa pagina ma se vedi sto parlando con te intanto mi hanno già ammazzato quattro volte si zombie del cazzo ma ne hai fatta pure una silenziosa no è sbagliato in pieno ma come è sbagliato in pieno mi è arrivato il tanfo dritto in faccia mo che esagerazione poi ti è arrivato il tanfo appena sganciata già da qua è arrivata fino a là eh per correre evidentemente è micidiale scusa sono proprio i carciofi è vero che è proprio tu i carciofi la sera non li devi mangiare dio santo sganci certe scurre che crepi i muri minchia mo cucini tu vogliamo parlare delle tue cene ma cosa c'entra adesso quello che cucino c'entra quello che cucini mo perché se tu mi fai solamente verdure è vacuo cioè mi fai le zucchine al forno le carote in tempura patate lesse e che è colpa mia se il medico ha detto che hai bisogno di fibre se no non caghi non basta quello che faccio pure il resto su fibre mo mica mangiate sempre tutte le foreste poi vai che cago ogni volta da l'accesso io chiedo disintegro e ste scurre sono il presagio di una cagata immensa la cagata quella cagata l'ho fatta io pensando che tu potessi essere diverso dagli altri infatti non hai fatto la cagata hai detto beh sono diverso uso le carce quello infradito e ce le uso solo io poi conosci un altro che fa certe scure che crepo i muri trema il palazzo l'altro giorno ti ricordi che hanno chiamato la polizia non fai ridere ma cosa ma cosa cosa eh si non fa guarda io ti avverto eh ok la prossima scurra che fai prendo la valigia e me ne vado di casa punto la valigia via di casa? si addirittura fai una scurra innocente poi ehm vado via andiamo a forum no? il mio ragazzo scorreggia mentre io leggo it e poi l'esagerata qua sono sempre io senti va pensa a ammazzare i zombie no sono i zombie che mi stanno mangiando a me meglio che meglio mo che mangio carciofi e mangio la carne putrita dopo che scurro anche lì nel gioco eh è già arrivata di nuovo no ma aspetta cosa vuoi? ma ci avvi già la valigia pronta guarda io così non posso continuare cioè ci sono appena lezioni in stacasa che a Chernobyl si va bene un attimo no mica mi hanno ammazzato di nuovo ascolta ma tu davvero vai via per sto motivo io sono serissima ma perchè scurro non cambio idea dai no no io te l'ho avvertito no ma ti giuro mo posso cambiare cambiare no mo è successo che hai l'ansia sai qua dai amore adieu mo io te amo amore 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 amore